Ghezze è un gruppo internazionale con sede a Leonberg vicino a Stoccarta, un'impresa familiare con una lunghissima storia imprenditoriale che inizia nel 1863 e che nei decenni si è consolidata nel mondo delle tecnologie per finestre e porte automatiche. Inizio il mio percorso in Ghezze l'Italia nel 2011 e da 2016 ne sono il Managing Director. Abbiamo creato ex novo dipartimenti strategici, sinergie e cooperazioni cruciali che si sono rivelate vincenti e ci hanno consentito in pochi anni di raddoppiare il nostro fatturato. 25 anni potrebbero non essere molti, soprattutto se pensiamo ai 160 anni di storia della nostra casa madre, ma il lavoro svolto dalla nostra azienda in questo quarto di secolo è stato straordinario. Tutti i nostri colleghi di oggi e di ieri, le nostre agenzie di vendita, i nostri partners hanno reso il marchio Ghezze e i suoi prodotti e servizi un riferimento assoluto in Italia. Siamo un gruppo di persone speciali che con tanta umanità e professionalità hanno raggiunto traguardi impensabili fino a qualche anno fa. Negli ultimi dieci anni abbiamo più che raddoppiato il personale e molti colleghi hanno acquisito nel tempo ruoli di maggiore responsabilità. Vantiamo un'età media inferiore ai 40 anni ed un'anzianità lavorativa media di 10 anni, ma nello stesso tempo favoriamo l'occupazione giovanile, consentendo un percorso di crescita stimolante. Il 70% degli addetti ai lavori riconosce il nostro brand, un traguardo molto importante che consolidiamo con campagne di brand awareness, attività promozionali e rinomate fiere di settore. Queste attività ci permettono di consolidare la nostra presenza sul territorio, garantendo una consulenza gratuita ad oltre 200 progettisti nazionali ed internazionali, individuando insieme le migliori soluzioni per porte e finestre. Che sia un progetto standard o customizzato, il lavoro in cantiere non è mai uguale al giorno prima. Ci confrontiamo quotidianamente con diverse figure, da responsabile tecnico al committente stesso, in sinergia con i nostri dipartimenti aziendali, soprattutto con la forza vendita, per far sì che le aspettative progettuali vengano rispettate in fase di consegna, sia in termini di sicurezza che di esigenze estetiche. Siamo il partner service per eccellenza. Il service di Ghezze lavora con oltre 900 clienti su tutto il territorio italiano, con un servizio di reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e dando un pronto feedback su tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Dobbiamo essere sicuri che gli edifici che manuteniamo continuino ad essere efficienti e più vivibili, anche quando ci sono problemi. Con una presenza capillare in tutta Italia, i nostri clienti si sentono sicuri e hanno la garanzia di un intervento anche entro 4 ore dalla verifica di un guasto, come per esempio furti, intemperie o danni accidentali. Questo è reso possibile dalla professionalità dei tecnici Ghezze e degli oltre 100 centri di assistenza tecnica, ai quali forniamo costante formazione e aggiornamento su temi quali sicurezza e normative. Ci rivolgiamo ad aziende con stringenti esigenze in termini di reattività, quindi assicuriamo ridotti tempi di reazione con capacità produttive anche di soli 3 giorni per interventi straordinari. Questo è possibile grazie a una forte collaborazione interna e sinergia con il team che coordina tutti gli interventi sul territorio. Un'altissima qualità dei prodotti, la premiante coerenza commerciale, una politica orientata alle esigenze del cliente, ci hanno consentito, con la fiducia reciproca tra colleghi, un'importante nazionalizzazione del brand Ghezze. Come managing director dell'azienda sono molto felice di rappresentare Ghezze Italia nel suo venticinquesimo anno di attività. È stato un percorso positivo e motivante e sono sicuro che con queste basi potremo affrontare tutte le sfide future.